E' il mio nome è Voretta. Questo è il mio paese di Kazakistan. E velo velo. Mio hobby. Pomp, ping, ping, pom. Disca dance. Bagno con sole con guardarroba verde. Questa è casa di me. Entrate, prego. Io vivo qui dentro. Mi ho letto. Questo è il registro a voce, con video. E questo è suona a cazzatina. Ora io mostro a voi fuori di mia casa. Disci? E' San Natalia. E' la sorella di me, numero 4 dei posti Troia di tutto Kazakistan. E' la ciccia, no? Anche se Kazakistan è un paese glorioso, ha uno vero problema. Per questo Ministerio di Informatazione è deciso di spendere me in US e in A. Per impararmi lezioni per Kazakistan. Ovaia in America! 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 Grazie.